Dunque, 8.30 live ufficiale, siamo già su live sulle varie piattaforme, quindi su Facebook, siamo live su YouTube, su Instagram di Viaggio Italiano e siete in collegamento con la chat Telegram, dunque se avete voglia, appunto dall'altra parte ci si può salutare. Federica, se vuoi fare tu il benvenuto a chi sta su Telegram in questo momento? Assolutamente sì, su Telegram abbiamo Michele Solari di Barche Elettriche, Fabrizio, ciao Fabrizio, Andrea, Ilenia e Sofia Tiozzo di SPG, con cui parleremo del nostro ebisciale, della copertura fotovoltaica. Buongiorno a tutti. Buongiorno, potete aprire il microfono e tranquillamente fare delle prove audio, abbiamo l'ultimo minuto e poi siamo live ufficialmente. Ciao a tutti. Ciao, Eddie. Ciao. Buongiorno a tutti, mi sentite? Forte e chiaro. Assolutamente sì. Buongiorno a tutti, avete bevuto tutti il caffè? Siete pronti per parlare di un po' di innovazione e di belle eccellenze italiane? Perché noi siamo carichi. Siamo live sui social, Fede mi confermi che sono tutti online, ciao. Sai che su Instagram non mi sembra, mi sembra che non sia partito, mi dà la diretta ma non si vede. Non si sente? Non si sente, no. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno, forte e chiaro. Sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Ciao, Edemia. Ciao. Ciao Pierpaolo anche che ci ha raggiunto su Telegram. Io vi avviso che alle nove vi devo staccare perché ho un appuntamento con un cliente che sto andando. Bene. Vedi, non ti preoccupare. Vedi, ci siamo. Vieni, vi ascolterò dopo in differita. Bellissimo. Bene, bene, bene. Allora. Grazie. Allora, Fede, l'ultimo minuto. Provo il riavvio su Instagram. Magari. Sì, grazie. RMT1. RMT1. Still change. Prova un po' a vedere. Adesso, aspetta, eh. Proviamo. Live. Ok, ora sì. Ti senti? Attenzione. Perfetto. Benissimo, io direi che possiamo partire. Siamo in tempo. 8 e 30. Buongiorno a tutti. Spero che vi siate svegliati al meglio oggi. Una giornata un po' così. Faccio un po' anche da stazione meteo. E poi il discorso della stazione meteo sarà interessante. Parlare proprio del discorso della stazione meteo perché c'entra un pochettino anche con questo Evi Chalet e con la località della quale vi parliamo oggi. Intanto vi presentiamo Eviaggio Italiano. Eviaggio Italiano è un progetto nato proprio durante il Covid ed è un progetto nato per rilanciare il turismo italiano in chiave elettrica. Eviaggio Italiano è nato dalla fondazione Evi Now che si occupa da circa 15 anni di mobilità elettrica nel nostro paese ed è stato subito patrocinato dalla comunità europea, Commissione e Parlamento. Si sono aggiunti i ministeri dei trasporti, il ministero della transizione energetica, il ministero degli esteri per il valore di Eviaggio Italiano che non è altro che un tour itinerante fatto con un'auto elettrica, una Tesla Model X che traina una cucina fotovoltaica completamente autonoma, un unicum italiano completamente made in Italy dai pannelli solari della Solbian fino ad arrivare alla batteria, al piano di induzione costruito qui in Brianza e quindi direi che veramente è un progetto che ha saputo dimostrare nelle sue varie tappe che la parte elettrica, quindi l'elettrificazione del nostro paese è veramente concreta ed è qualcosa che si può realizzare. Io do il benvenuto ai nostri ospiti partendo proprio dalla room di Clubhouse, quindi lo strumento che stiamo utilizzando anche per divulgare un pochettino di mobilità elettrica. Diamo il benvenuto a Maca Morterone. Selene, ciao. Buongiorno a te. Buongiorno a te. Francesco Mallimo, USP. Buongiorno a te. Ciao, ciao Francesco. Federico della Days, bellissima realtà di cui parleremo. Ciao Fede. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Poi abbiamo un po' di ospiti, se volete poi salire sul palco vi faccio salire volentieri. Intanto cedo la parola a Federica per presentare gli ospiti che abbiamo sulla parte Telegram. Esatto. Allora, da Telegram abbiamo connesso a Sofia Tiozzo di STG, fabbrica del fotovoltaico, che ci parlerà della copertura fotovoltaica del nostro eviscialè e abbiamo collegata anche Ilenia, che è la direttrice marketing sempre di STG. Ciao, buongiorno. Abbiamo anche tanti altri ospiti collegati da Telegram, quindi saluto Eddie, saluto Michele, saluto Pierpaolo, saluto Fabrizio. Benvenuti a tutti quanti. Benvenuti a tutti. Se ci sentite tutti forti e chiaro, allora io lancerei la sigla della Room. Che ne dite? Bellissimo. Mi sentite? Perfetto. Allora fermiamo la base musicale e partiamo con la sigla. Benvenuti nella Room di Eviaggio Italiano. Benvenuti, benvenuti. Veramente è un piacere stamattina essere qui con voi perché parliamo di un progetto interessante, un prototipo interessante e una veramente diverse realtà veramente interessanti e importanti legate a questo progetto. Questo progetto, come vedete dal titolo della Room, si chiama Ivi Chalet, innovazione, cultura e sostenibilità e si inserisce all'interno di un territorio splendido che è il territorio, che è il comune più piccolo d'Italia. Quindi in questo momento è ancora il comune più piccolo d'Italia ed è una perla proprio in provincia di Lecco, una perla veramente interessante. E quindi, se siete d'accordo come si fa di solito, ciao Massimiliano, benvenuto, io darei la parola alla sindaca di Morterone che siccome è un insegnante in questo momento è a scuola quindi non poteva essere con noi in diretta ma ci ha registrato alcuni messaggi e quindi partiamo dal benvenuto del sindaco. Ciao, sono Antonella Invernizzi, sindaco del comune di Morterone. Morterone è salito alla cronaca anche ultimamente in quanto è il comune più piccolo d'Italia per il numero di abitanti. Ma a me piace ricordare che il nostro è un piccolissimo borgo immerso nel verde ai piedi del Monte Resegone di Manzoniana Memoria. Siamo in provincia di Lecco a 1070 metri. Come ho appena detto, il nostro è un luogo incantevole immerso nella bella stagione nel verde oppure in un candido bianco come è accaduto quest'inverno, un inverno di neve abbondante che ci ha fatto proprio vivere quasi immersi in una favola. Io sono sindaco dal 2009. In questi anni, insieme ai miei amministratori e ai numerosi volontari, ho cercato di far conoscere questo comune per le sue bellezze, per le sue peculiarità che lo rendono veramente unico. L'ambiente, la natura sono unici. Qui abbiamo cercato, insieme anche ad altre associazioni, di distinguerci per delle particolarità. Abbiamo wifi pubblico in piazza, abbiamo presso il municipio una stazione meteorologica che invia i dati ai servizi nazionali e abbiamo anche un museo all'aperto di arte contemporanea. Di solito si dice che nella botte piccola c'è il vino buono. A me piace dire che nella botte piccola ci sono le idee buone e quando abbiamo pensato di creare questa piccola struttura siamo stati coinvolti in questo progetto tecnologico da Evinau. Eccoci, quindi questa prima parte di presentazione da parte del sindaco, dopo sentiremo di quali altri argomenti abbiamo parlato insieme, introduce proprio Morterone, il comune più piccolo d'Italia dove è stato installato questo iviscialè che si inserisce in un'area veramente interessante e soprattutto ricca non solo di territorio bello ma anche, come avete sentito, del Maca Morterone, il museo di arte contemporanea all'aperto. Penso uno dei più grandi d'Italia, adesso ce lo faremo confermare, da Selene, che è qui con noi sulla chat proprio di Clubhouse. e questa realizzazione parte da anni e anni fa. Adesso ce lo faremo descrivere da Selene. Selene, ciao! Ciao a tutti, io sono Selene e oggi vi parlo a nome dell'Associazione Culturale Amici di Morterone, appunto, come ha detto Daniele, del museo. Allora, l'idea del museo nasce dall'associazione che è nata nel 1986 da un'idea di Carlo Invernizzi, che è un poeta originario del luogo dove ha fatto di Morterone il fulcro del suo fare poesia che insieme a un nucleo di persone che frequentavano Morterone appunto ha cercato di farlo rivivere dal punto di vista culturale rendendolo anche un centro propulsore di pensiero. Questa idea ha fatti appunto che nel 1988 con la mostra e il museo degli artisti fossero installate le prime opere all'aperto che oggi sono più di 30 e ha portato alla partecipazione appunto artisti italiani e stranieri di fama internazionale da un museo di arte contemporanea. È molto diffuso sul territorio. Come mai se ne parla appunto dicendo che è uno dei più grandi musei di arte contemporanea? Quante opere ci sono? Ci sono oltre 30 opere all'aperto. Adesso, quest'estate, verrà anche inaugurato uno spazio espositivo al coperto che doveva essere inaugurato nel 2020 ma dopo la pandemia chiaramente si sta gli eventi sono stati posticipati e la particolarità appunto è che le opere non sono in un parco o in un'area circoscritta ma sono sparse in tutto il paese quindi c'è stato anche un coinvolgimento diretto della comunità che ha apprezzato questo progetto e ha messo a disposizione sia su territori privati che anche in collaborazione poi con l'amministrazione comunale negli ultimi anni che all'interno della chiesa appunto gli spazi per poter installare le sculture diciamo. Ah, Selene, lo possiamo praticamente chiamare invece che albergo diffuso? Questo è un museo diffuso? C'è stata una collaborazione tra privati proprio per ospitare le opere? Sì, però allo stesso tempo diciamo per quanto riguarda poi l'ambito artistico il museo diffuso sarebbe un'altra cosa quindi Ah, c'è anche quindi quindi ci ho azzeccato esiste la categoria di museo diffuso quello che c'è a Morte non è propriamente un museo diffuso però diciamo che le opere sono sparse in tutto il paese quindi non è un'area cercoscritta sarebbe un percorso di oltre 4 chilometri e mezzo in cui il visitatore appunto quasi inciampa nelle opere le incontra per caso generando appunto questo stupore questa idea si lega anche poi all'ideale che sottostà al fare del museo cioè la visione poetico-filosofica concepita da Carlo Invernizzi che è quella della Natura Naturans cioè appunto questa idea per cui che rende unico questo museo in Italia e che fa sì appunto che sia la sua più grande particolarità insieme al fatto che sia sparso in tutto il paese che semplificando molto questo concetto che è abbastanza elaborato diciamo appunto vede l'uomo come parte integrante della natura e in quanto essere vivente ciò che l'uomo fa è parte del naturale per questo motivo le opere non nascono per un luogo ma nascono da quel luogo come se fossero dei fiori che nascono in un campo quindi diciamo che l'idea che l'artista fa l'opera ma non sulla base del luogo ma come se in quel luogo crescesse e questa è proprio la particolarità che fa sì che questo museo sia unico quindi c'è una bella integrazione proprio tra le opere e il territorio e poi questa casa dell'arte che è stata creata nel 2020 e che quindi sarà inaugurata quest'anno ospiterà altre opere anche artisti avete degli eventi al di là dell'inaugurazione già in mente? Allora al momento appunto stiamo cercando di programmare l'inaugurazione che sarà quest'estate sul nostro sito poi ci saranno tutti gli aggiornamenti sui nostri social se siete interessati a seguirci appunto sarà quest'estate sì saranno installate delle opere che non possono essere esposte chiaramente all'aperta perché l'idea con cui nasce il museo è una diretta collaborazione con l'artista nel senso che l'artista non viene per creare l'opera sul luogo ma in primo luogo crea un legame con Morterone questo fa sì che gli artisti che sono stati coinvolti dagli anni 80 vivano un Morterone e abbiano pensato per Morterone delle opere specifiche e appunto nella Casa dell'Arte ci saranno delle opere di artisti sia italiani che stranieri oltre a anche altri nomi diciamo oltre a quelli che sono esposti all'aperto che andranno che andranno a costituire la prima mostra e poi adesso in concomitanza forse dovremmo organizzare anche un webinar diciamo all'Università Vita Salute San Raffaele tutto ancora in progress vi terremo aggiornati benissimo le date che ci saranno fantastico questa integrazione delle opere nel territorio mi fanno venire in mente che le visciale quindi lo strumento il laboratorio di cui vi parliamo oggi ha un tetto che in qualche modo si integra con il territorio perché perché le visciale è completamente autonomo e invece di pannelli solari come avete visto magari su alcuni rifugi in montagna i classici pannelli solari è stato scelto di installare delle tegole solari che si inseriscono perfettamente nel territorio in modo armonioso e costituiscono il tetto e allo stesso tempo l'energia che arriva dal sole e che alimenta le visciale queste tegole fotovoltaiche sono italiane come dicevamo prima tutto made in Italy e sono di un'eccellenza con la quale stiamo collaborando alla grande che si chiama STG e abbiamo Sofia Tiozzo in rappresentanza proprio dell'azienda ciao Sofia ciao a tutti ciao a tutte a voi le realizzazioni della STG poi tu ce ne parlerai ampiamente sicuramente si inseriscono in maniera eccezionale in contesti particolari io ricordo Milano ricordo alcune delle vostre installazioni se ce ne vuoi parlare tu e se ci vuoi parlare proprio di questo ruolo del fotovoltaico architettonico che quindi si inserisce bene in Italia certo certo Daniele diciamo che forti e entusiasti di quel successo che abbiamo avuto del progetto di riqualificazione urbana dell'isola della Certosa Venezia in cui sono stati proprio per volere della committenza e della direzione dei lavori inseriti nei lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'isola dei tetti con tegole fotovoltaiche colorate parliamo di circa 1100 metri quadri di superficie tetto convertita a generatore fotovoltaico con tegole fotovoltaiche colorate abbiamo voluto replicare questo caso di successo in questo bellissimo e poetico angolo diciamo delle montagne di Lecco proprio perché così come a Venezia è stato premiato l'inserimento cioè la scelta di questa soluzione tetto e l'inserimento in quel particolare contesto paesaggistico abbiamo voluto diciamo portare questa best practices che diciamo testimonia che è possibile fare fotovoltaico bello e funzionale di design e al tempo stesso efficiente anche sui monti di Lecco e credo che la soluzione sia veramente diciamo in completa armonia testimonia anche un abbinamento diciamo anche tecnologico e funzionale con la struttura diciamo sottostante le sue funzioni credo che possa essere oltremodo replicabile perché la soluzione tegola fotovoltaica è una soluzione di rivestimento può essere utilizzata sia su coperture sia in facciate è un prodotto costituito da un doppio vetro stratificato fotovoltaico per cui parliamo di diciamo due lastre appunto di vetro che vengono unite stratificate con particolari intercalari plastici specifici per il poi settore sia dell'edilizia che fotovoltaico che consentono appunto di diciamo l'inserimento di celle monocristalline e questo prodotto può essere declinato può essere appunto realizzato in molteplici varianti incluse anche le varianti colorate così come quella che è stata proposta per Levisciale che presenta una colorazione effetto terracotta del vetro anteriore ok e diciamo che auspico diciamo proprio che sia replicabile anche in altri contesti proprio a sottolineare il fatto che è possibile fare fotovoltaico italiano e anche bello bello da vedere con diverse colorazioni questo inserimento è veramente spettacolare e permette come avete fatto voi di fare installazioni laddove magari il fotovoltaico ha dei limiti quindi inserimenti anche in aree dove non verrebbe autorizzato al di là dell'integrazione serve anche quello colorato e voi avete la soluzione tutto made in italy addirittura verticale penso che sia un fotovoltaico poco conosciuto a milano tra l'altro si può ammirare ricordami dove lo si può vedere il vostro fotovoltaico verticale lo potete vedere benissimo sul palazzo di regione lombardia o sull'antistante palazzo appunto di via restelli in piazza gaiaulenti invece abbiamo tutta la serie di pensiline in cui in collaborazione appunto con allo studio di progettazione sono fatte anche delle scelte particolari di personalizzazione ecco mi piace dire che appunto le soluzioni appunto in le soluzioni vetrate fotovoltaiche nascono per essere soluzioni su misura però proprio per avvicinare questi prodotti per avvicinare questi prodotti anche diciamo una platea più più vasta sono state anche inserite delle soluzioni al catalogo cioè soluzioni non su misura quali appunto le teole fotovoltaiche nell'auspicio che possano essere vastamente diffuse ecco bene ce lo auguriamo veramente tutti ed è un'installazione interessante che vedrete poi nei nostri profili oggi quindi andatelo a cercare sul Instagram di Viaggio Italiano vedrete proprio delle immagini dell'installazione di Morterone sulla quale torneremo e parleremo anche di verticale quindi Sofia se mi autorizzi poi farò vedere qualche foto anche proprio del vostro fotovoltaico verticale perché perché dobbiamo sfruttare il più possibile l'energia solare è quello che Levi Chalet andrà a fare e di cui parleremo stamattina Federica sì esatto proprio a questo proposito volevo collegarmi con Massimiliano Braghin Massimiliano è il founder di Infinity Hub una bella realtà che ha dato che ha permesso di dare vita andando a creare una interessante soluzione di crowdfunding legata a progetti sostenibili ha permesso di dare vita una diciamo così piccola comunità energetica sull'isola di San Servolo un'isoletta nell'arcipelogo della città metropolitana di Venezia allora prima con Sofia si parlava del fatto che il fotovoltaico particolare come quello per esempio di STG permette di in qualche modo andare ad andare incontro a quei vincoli paesaggistici che spesso non permettono la realizzazione di progetti in situazioni paesaggistiche appunto particolari come può essere ad esempio un'isola Massimiliano la domanda che volevo fare a te voi avete immaginato un bellissimo progetto sull'isola di San Servolo quindi siete riusciti a creare tramite appunto un finanziamento particolare un progetto molto interessante che cosa avete realizzato come lo avete realizzato quindi come avete trovato anche i fondi quali tecnologie andrete ad impiegare per creare quella che sarà di fatto la prima isola electric friendly d'Italia grazie Federica e buongiorno a tutti buongiorno sì il progetto che riguarda San Servolo ha un nome ben specifico che è quello di una società di scopo si chiama Venice Lightyear e di fatto è il primo progetto in crowdfunding pubblico green l'obiettivo è quello di riqualificare dal punto di vista energetico l'intera isola che considerate che ospita 12 università internazionali è di fronte a San Marco e da anche un albergo una foresteria ma soprattutto è nata a cavallo dell'anno 1000 come prima abbazia benedettina di Venezia poi è diventata un manicomio e adesso è anche un museo la bellezza di questa isola non è solo dal punto di vista museale ma anche dal punto di vista naturalistico e come dicevo prima accademico il progetto che abbiamo presentato alla città metropolitana consta di 2000 punti luce circa riconvertiti a led 6 gazebi fotovoltaici e anche una copertura di un barbecue molto grande che verrà fatta con la tecnologia di STG quindi con le tegole fotovoltaiche che sono praticamente dello stesso colore dei tetti vicini diciamo che con la sovrintendenza che è in palazzo ducale a Venezia abbiamo condiviso informalmente un percorso di integrazione come si diceva all'inizio del programma tra il green quindi la tecnologia la bellezza e quindi anche l'arte perché la sostenibilità deve essere questa sostenibilità per definizione significa capace di futuro quindi il green deve essere il più possibile integrato però questa iniziativa ha anche una cosa in più rispetto a tante altre ha la condivisione quella che in economia si chiama parete efficienza o win-win cioè un progetto è sostenibile nella misura in cui i benefici anche economici vengono condivisi con il maggior numero di persone possibili tant'è che questa è in iniziativa l'undicesima chiusa da Infinity Hub come holding di partecipazioni l'undicesimo progetto sì l'undicesimo progetto è un record europeo fantastico abbiamo raccolto quasi 2 milioni e mezzo di euro su una dozzina di milioni di progetti e oggi la community conta 60.000 persone e 740 azionisti e soci del gruppo quindi la crescita che abbiamo avuto è esponenziale ma perché c'è c'è un concetto che a me piace molto ricordare che un po' è inserito anche nell'enciclica papale laudato sì che è la corrispondenza fra l'essere il dire ed il fare nella misura in cui l'efficienza energetica deve essere l'azzeramento del consumo di fonti fossili è evidente che non posso solo spiegare la teoria e poi lasciare che il mercato bene o male i big o i piccolissimi si arrangino però bisogna avere il coraggio di metterci la faccia l'energia in tutti i sensi e di conseguenza arrivare a condividere su questo progetto la bellezza è che abbiamo raccolto 100 mila euro in poco più di un mese 44 sono i soci tra cui imprese anche artigiani importanti anche STG e si è chiuso addirittura con una Ollus che si chiama Sorrisi d'Africa che addirittura in Senegal sta realizzando delle piccole scuole eccetera eccetera quindi la comunità la community e gli strumenti social ma anche finanziari agganciati ad un progetto di questa portata è sicuramente uno strumento eccezionale educativo ricordo in ultima che sono entrati addirittura 11 studenti di Cafoscari che adesso faranno un saggio di una trentina di pagine su diverse tematiche che affronteremo proprio nell'isola ultimissima cosa installeremo anche la prima colonnina palo pubblica per la ricarica delle barche elettriche questo per portare acqua al vostro mulino della mobilità mi hai dato l'aggancio perfetto sulla mobilità e sulla colonnina perché di fianco a te qui su Clubhouse abbiamo Federico della Days Technology un'altra azienda eccellente italiana che io ho visto crescere perché con i due fondatori anni fa quando proprio erano agli inizi ho seguito un pochettino lo sviluppo ci siamo messi a tavolino per portare avanti alcuni dei loro progetti il loro progetto principale ed oggi è una bella realtà avviata con Federico qui del marketing che ha aderito insieme all'azienda proprio alla realizzazione della stazione di ricarica Massimiliano credo la stazione di ricarica che andrà a prendere andrà a fare un record italiano di numero di stazioni per abitante e ci piace vincere facile perché siamo a Morterone con 29 abitanti e Federico questa colonnina anzi saranno due colonnine addirittura raggiungerà un record nazionale forse europeo ciao Federico ciao buongiorno a tutti sì esatto come hai detto tu sarà una densità di colonnine di ricarica Morterone elevatissima siamo molto contenti noi di partecipare a questo progetto mi dispiace oggi Andrea e Giacomo non possono essere qui ma seguono con molto interesse anche loro tutta l'evoluzione di Morterone per noi è un'opportunità bellissima in cui davvero crediamo tanto perché è il nostro è il motivo per cui siamo comunque facciamo quello che facciamo è proprio l'aggiungimento della sostenibilità e sicuramente questo progetto è la migliore espressione ecco quindi non vediamo l'ora di poter installare le nostre le nostre colonnine noi noi ci occupiamo per chi non ci conoscesse di colonnine per il settore semi pubblico e privato e a Morterone proprio installeremo entrambi i nostri pezzi forti al momento e quindi non vediamo l'ora di contribuire di vedere come anche verranno utilizzate in questa realtà bene faccio un piccolo recap per chi si è connesso in questo momento sulle varie piattaforme stiamo parlando dell'Evisciale inserito nel comune più piccolo d'Italia Morterone sopra Lecco nelle montagne sopra Lecco questo è una struttura completamente autonoma con tegole fotovoltaiche batterie d'accumulo da 9 kWh e delle colonnine di ricarica di cui Federico ci ha appena parlato e si inserisce in quelli che sono dei vari progetti interessanti come quello fantastico di Massimiliano che ci ha raccontato in crowdfunding in questo caso invece è stata proprio l'amministrazione comunale a finanziare il progetto anche grazie alla regione Lombardia e questo chalet si inserisce poi all'interno di un territorio fantastico di cui il Maca Morterone ci ha parlato perché c'è proprio il Maca Morterone che è il museo di arte contemporanea all'aperto tra i più grandi probabilmente d'Italia Federica esatto io intanto colgo l'occasione per salutare anche Alessandro Alessandro Torelli che ci ha raggiunto qui su Telegram ciao Alessandro sì beh assolutamente una cosa molto interessante notare il link che c'è sempre in questi casi in questi progetti meravigliosi tra la cultura come dice anche il nostro titolo la cultura l'innovazione e la sostenibilità quindi dei progetti che si vanno ad inserire all'interno di realtà che promuovono una cultura storica artistica universitaria come può essere sull'isola di San Servolo come è anche in Morterone che è il comune più piccolo d'Italia ma molto avanti sotto questo punto di vista ricco di arte e di cultura e poi l'inserimento di tecnologie molto innovative che permettono di rendere questi progetti assolutamente sostenibili punti di ricarica per barche elettriche fotovoltaico punti luce a led quindi efficienti allo stesso modo anche Evisciale inserito in un ambiente meraviglioso e pieno d'arte perché è proprio posto nel verde del Macamorterone quindi del del museo all'aperto con un progetto di struttura assolutamente autonoma quindi fotovoltaico ben due punti di ricarica quindi questa connessione è veramente molto interessante ma peraltro Selene ti ricoinvolgo un attimo ma peraltro lo Chalet si inserisce anche proprio a livello di colori cioè sta bene anche visivamente diventa quasi un'opera vero all'interno del Macamorterone cosa ne pensi? ma io credo che io credo che Vichalet proprio come il museo sia un'opportunità grandissima per Mortelone infatti entrambi offrono la possibilità di coinvolgere un pubblico specifico in un caso interessato all'arte nell'altro interessato all'elettrico facendo una grande attenzione alla qualità del progetto che viene portato avanti dove non si vuole contaminare questa conca le pendici del Molte del Zegone dove la natura regna sovrana ma l'interazione umana cerca di integrarla non deturpandola e sì lo chalet si inserisce perfettamente in questo contesto appunto riprendendo tutte quelle caratteristiche che tu hai appena detto e quindi non può che essere una possibilità in più per venire a Mortelone e visitare quello che c'è esatto nel rispetto totale di quello che c'è intorno sarà una bella sperimentazione ragazzi un pilota a cui vi inviteremo per l'inaugurazione prevista tra fine maggio e inizio di giugno e dovrà produrre tutta l'energia di cui necessita questa è una bella sfida anche in un periodo magari dove nevicherà come è successo quest'inverno liberando il tetto dalla neve e vi cialè dovrà produrre l'altro giorno quando abbiamo fatto i primi test con una giornata coperta di veramente grigia lo dico anche a Sofia le tue tegole hanno prodotto due kilowatt e mezzo stavano già ricaricando le batterie eravamo stupiti e allibiti nel vedere proprio con l'azienda western con cui abbiamo fatto il sistema di alimentazione e di ricarica delle batterie che effettivamente stava producendo veramente bene questo è qualcosa che ci inorgoglisce invito chiunque anche nella platea qui di Clubhouse volesse salire a fare qualche domanda così io vi faccio salire tranquillamente adesso effettivamente abbiamo un vorremmo parlare poi anche proprio degli impianti a bordo del sistema che sicuramente eccoci qui abbiamo Massimiliano Massimo eccolo qua adesso ti faccio salire perché proprio l'impianto che abbiamo installato è anche questo italiano una bella eccellenza rappresentata da Massimo Strozieri della Western ciao Massimo ciao ciao Daniele ciao piacere eccoci qui piacere l'altro giorno dicevo che eravamo sorpresi di quanto stesse producendo bene l'impianto questa bella integrazione e siccome parliamo di eccellenze la vostra azienda mi è piaciuta subito perché è un'eccellenza da ormai più di 30 anni sbaglio nel settore ma sì allora la Western nasce negli anni 80 quindi 84 è un'azienda che ha una storicità di 40 anni il nostro amministratore Giovanni ha poi allora la Western è un'azienda che fa elettronica quindi abbiamo una linea robotica di assemblaggio in SMD quindi tutti i prodotti elettronici sono fabbricati nel nostro stabilimento marchigiano e appunto per questo il nostro amministratore innamorato pioniere dell'energia rinnovabile negli anni 90 ha iniziato a sviluppare una serie di prodotti elettronici che andavano a gestire proprio il pannello fotovoltaico in un contesto di accumulo ovviamente Massimo ti abbiamo perso scusatemi eccoci sì adesso sì scusatemi ovviamente siamo diciamo pionieri per tutto quello che è il mondo dell'off grid quindi tutto quello che trovate l'obiettivo di Western è creare prodotti elettronici per gestire modulo fotovoltaico e una batteria in un contesto al di fuori della rete quindi portiamo in parole povere l'energia dove non esiste fondamentalmente e quindi questo è un chiarissimo esempio di come un nostro sistema Leonardo può coniugare moduli fotovoltaici e una batteria di accumulo per gestire praticamente l'energia all'interno diciamo dell'utenza ecco completamente fuori dalla rete ok quindi diciamo che il nostro compito è quello di creare un po' il cuore del sistema che mette d'accordo moduli fotovoltaici batterie carichi e tutto quello che c'è all'interno diciamo in questo caso delle bussere insomma ecco quindi la specializzazione nei sistemi a isola e io credo che non ci sia un periodo migliore di questo ormai con il 2021 di immaginare già dei sistemi a isola e addirittura perché ne parlavo proprio l'altro giorno con Giovanni delle comunità energetiche anche su quello sarebbe fantastico e ne parleremo in una puntata perché comunità energetica e viaggio italiano vanno assolutamente a braccetto quindi comunità energetiche che condividono la propria energia queste con soluzioni ingegneristiche italiane anche qui quando andiamo sempre a cercare le cose all'estero poi abbiamo tutto a casa in realtà fantastico sotto questo punto di vista per far dialogare bene tutti i sistemi e farli dialogare sulle stazioni di ricarica signori noi stiamo realizzando questo chalet completamente autonomo che avrà la stazione di ricarica per le auto e avrà anche la stazione di ricarica per le biciclette e le biciclette che salgono a Morterone su questi 16 chilometri di strada tortuosa bellissima che si affaccia sui laghi e viene chiamata addirittura piccolo stelvio quindi immaginatevi com'è da motociclisti e ciclisti ci sono tanti ciclisti ormai con la bici elettrica e la bici elettrica è un nuovo utilizzatore di energie in questo caso che verrà proprio donata dal sole completamente da Louis Chalet far dialogare questi sistemi è interessante ci sono aziende che hanno realizzato proprio dei software dedicati a questo Federica chi ci presenti per questa azienda qui esatto qui da Telegram abbiamo collegato Alessandro Torelli di Smartbit che all'interno del sistema appunto di Evisciale ha creato appunto un punto di ricarica per le bici elettriche che peraltro poi andrà a gestire anche l'energia dell'Evisciale erogata per i punti di ricarica Alessandro sì ciao buongiorno a tutti sì io sono il socio di Smartbit questa società che è nata qualche anno fa come startup innovativa abbiamo iniziato da un foglio bianco per scrivere per tirar giù qualche idea su quello che poteva essere la gestione della mobilità e il coordinamento di tutta l'infrastruttura mettendo in chiaro quelli che sono i punti a favore i punti critici che ci sono attualmente con le tecnologie in inizio e quindi abbiamo iniziato con la creazione di questa piattaforma è una piattaforma che si chiama Tor che serve per la gestione remota delle varie stazioni di ricarica tra cui non solo auto ma anche i bici elettriche quindi con un'unica piattaforma abbiamo fatto una struttura che permette la gestione in remoto di tutte le varie stazioni che ci possono essere distribuite sul territorio questo quale valore aggiunto può avere il fatto di avere sempre sotto controllo lo stato di queste colonnine perché quando parliamo soprattutto di colonnine in questo caso colonnine per la ricarica delle bici elettriche spesso ce le troviamo magari in alta montagna e ce le troviamo in posti che sono difficilmente raggiungibili dalla manutenzione locale e quindi magari rischiamo di avere delle colonnine che sono fuori servizio e rimangono fuori servizio per parecchio tempo se non c'è nessuno che fa l'assimilazione ecco perché questo sistema che colloquia costantemente con le colonnine riesce a mandare dei messaggi dell'arma e se questi vanno in colpe ma non è solo questo ovviamente il valore aggiunto è quello di dare la possibilità ai vari utenti di avere delle mappe grafiche disponibili sullo smartphone e attivare il navigatore per raggiungere quella stazione di ricarica avere delle informazioni su quella stazione di ricarica nella fattispecie delle colonnine di ricarica per le bici quelle che abbiamo fatto noi abbiamo pensato di tirar giù un sistema un po' parallelo a quello che è il sistema già esistente cioè quello della ricarica delle auto elettriche ecco perché con la stessa piattaforma è possibile gestire contemporaneamente auto elettriche e bici elettriche che in realtà per chi non è del settore vuol dire sempre caricare delle batterie in realtà sono due tecnologie completamente diverse che però noi siamo riusciti ad integrare nella gestione di un unico sistema ecco anche qui da dire che la tecnologia è tutta al 100% italiana perché come dicevo prima noi abbiamo iniziato da un foglio bianco abbiamo iniziato a scrivere delle idee abbiamo iniziato a produrre delle apparecchiature dei dispositivi tutto internamente alla nostra azienda quindi ad oggi in realtà siamo operativi al 100% perché ormai questa piattaforma di Tor è attiva da alcuni anni è assolutamente stabile è molto semplice da utilizzare un po' la disponibilità di tutti infatti era proprio anche un obiettivo che c'eravamo posti che le di dare uno strumento ai vari operatori del settore che magari non avessero dei grandi potenzialità economiche e quindi dare facilmente uno strumento di utilizzo di gestione della loro infrastruttura bellissimo Alessandro molto importante sarà bello vederla da vicino perché credo poi che con il nostro network che è molto sviluppato ovviamente sulla mobilità elettrica ci saranno delle connessioni molto interessanti ti dico già che mi stanno scrivendo quindi ho già ricevuto un po' di messaggi molto bene intanto se c'è qualcuno che vuole salire sul palco alzate la manina premendo qui sotto se non conoscete ancora il viaggio italiano seguitelo c'è il club qui in alto lo potete seguire se volete avete la connessione volete ascoltare anche in alta qualità premendo i tre puntini potete farlo tranquillamente Federica sì io intanto volevo salutare Sofia Sofia Tiotto di STG che ci deve salutare Sofia mi raccomando ci rivediamo all'inaugurazione di Evie Chalet assolutamente grazie dell'invito grazie mille ciao Sofia grazie grazie veramente molto bene grazie Sofia ciao perché Evie Chalet verrà inaugurato con una tappa proprio di Viaggio Italiano Viaggio Italiano è il progetto appunto da cui nasce anche questa room questo club su Clubhouse è un progetto per chi non si era ancora connesso prima lo ripetiamo di valorizzazione di quelle che sono le eccellenze italiane nel campo della mobilità elettrica nel campo delle energie rinnovabili e nel campo del turismo sostenibile è un progetto che ha da subito ottenuto dei grandi riconoscimenti anche internazionali infatti è stato da subito patrocinato dall'Unione Europea dalla Commissione e del Parlamento oltre chiaramente a tanti ministeri italiani e anche a Danci l'associazione nazionale dei comuni italiani quindi oltre e poi chiaramente mi dice che prima si parlava di cultura come dimenticarlo da Enit quindi l'ente che promuove il turismo in Italia e infatti proprio per questi tanti motivi Eviagio Italiano ha deciso di andare ad inaugurare quindi gestire proprio l'inaugurazione delle visciale fine primavera inizio state appena insomma la situazione pandemica ci permetterà di farlo Daniele Eccoli io avrei il contributo di Antonella sempre il sindaco di Morterone con la quale ho parlato di efficienza di definire secondo lei che cos'è l'efficienza perché le visciale di cui parliamo questo mezzo deve essere completamente efficiente deve utilizzare l'energia nel migliore dei modi perché poi all'interno ne parleremo proprio con Francesco che abbiamo qui sul palco subito dopo c'è un sistema a pompa di calore ad altissima efficienza che viene gestita dall'energia prodotta dal tegole fotovoltaiche quindi non c'è null'altro non c'è gas non c'è allacciamento di contatore ovviamente non c'è nessun tipo di generatore a benzina e quindi l'efficienza è importante ma l'efficienza ha diversi aspetti è un comune piccolo che deve amministrare un territorio deve essere assolutamente efficiente vediamo che cosa ha da dirci Antonella su questo tema amministrare un piccolo comune non è semplice perché un piccolo comune non ha una struttura ma ha tutte le incombenze che hanno anche i grandi comuni cambiano solo le cifre ma quello che c'è da fare lo si deve fare in un grande comune così come anche in un piccolo comune sicuramente la vita di un amministratore di un piccolissimo comune è una vita molto attiva mi piace dire si deve dare da fare per riuscire a soddisfare tutte quelle esigenze quotidiane che un comune anche di medie dimensioni riuscirebbe a soddisfare qui non essendoci personale gli amministratori non solo il sindaco diventano dei volontari e la parola risparmio è la parola che è proprio alla portata di ogni attività che noi svolgiamo all'interno del nostro piccolo comune per cui si cerca proprio di darsi da fare per riuscire ad ottenere il meglio bisogna essere super efficienti perché creare delle isole energetiche creare dei piccoli punti importanti come questo è uguale ad amministrare delle isole che sono poi delle piccole realtà e comunque anche con 29 abitanti hai lo specchio un pochettino di quelle che sono anche le grandi città i problemi sono gli stessi anzi i budget sono ridotti il personale pure quindi bisogna essere assolutamente efficienti Federica sì infatti isole fotovoltaiche collegate con noi abbiamo anche Michele Solari che abbiamo conosciuto la scorsa settimana appunto parlando di isole elettriche quali per esempio le barche elettriche Michele diceva mi piacerebbe fare un piccolo collegamento Michele ciao Michele ciao 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 a tutti buongiorno io vi racconto la mia esperienza sarò brevissimo spero nel senso che nell'ambito della mobilità elettrica sull'acqua specialmente lungo i fiumi e sui laghi spesso diciamo la rete elettrica non arriva da tutte le parti perché ci sono delle aree magari un po' più selvagge permettetemi il termine la cosa interessante è che però sono anche in zone dove esistono le piste ciclabile e quindi l'EV chalet potrebbe diventare anche EV bike stop cioè l'idea di creare un'area per i ciclisti per le biciclette di sosta di servizio con le tegole con dei punti di ricarica magari nel nostro caso come barca elettrica vicina all'acqua che permetterebbero anche la ricarica delle barche cioè l'idea è molto interessante questa e capire anche la possibilità di diciamo trasferirla anche in altre zone dove rimane il pregio cioè non è necessario portarla all'elettrica perché è un investimento un costo troppo elevato e creando questi punti che potrebbero essere di servizio anche ai turisti ciclisti e in questo caso anche ai proprietari o chi utilizza la barca elettrica è interessante la connessione grazie hai creato proprio la connessione importante e quello che per noi è importante è proprio creare il network il network importantissimo al di là proprio della parte nostra tecnica e tecnologica creare delle connessioni una delle connessioni che abbiamo creato nel tempo ed è nata un po' da un'amicizia legata anche a quello che è il sistema ad esempio di riscaldamento e raffreddamento all'interno delle visciale Francesco Mallimo un caro amico un teslista come me praticamente ha sponsorizzato la parte proprio legata ad esempio alla produzione di calore e alla sottrazione anche di calore quindi al raffrescamento con la pompa di calore Francesco io dico sempre quando parlo nei convegni che ad oggi nel 2021 utilizzare il gas utilizzare la combustione per scaldare è veramente fuori dal tempo Francesco è vero che le pompe di calore sono talmente efficienti da rappresentare un unicum che ormai è insostituibile Sì sì ciao Daniele buongiorno a tutti ciao ciao io sono veramente orgoglioso sono contento di aver contribuito in modo magari minimo nella realizzazione di questo progetto bellissimo siamo appassionatissimi di auto mobilità elettrica e quindi fotovoltaico è tutto quello che è il mondo il mondo brill la pompa di calore come dicevi tu veramente secondo noi adesso è veramente importante perché ha un coefficiente di di performance rispetto rispetto a una caldaia molto 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 alto adesso si parla di un COP che va superiore al 3 COP significa assorbe un kilowatt di corrente ma rende nell'aria il rapporto di 3 volte 3 addirittura anche 4 volte quindi a differenza di una stufetta che assorbe uno e da uno con una pompa di calore assorbe uno e da tre la caldaia francamente è una roba vecchia roba vecchia che a parte veramente pericolosa in alcuni casi pericolosi manca manca serve cambio d'aria per ossigenazione devi portare appunto il gas non è secondo me non è il futuro non secondo me secondo me il mondo il mondo green certo quindi la pompa di calore veramente poi tra l'altro hanno fatto dei passi da giganti quindi all'inizio facevano solo in aria fredda poi pompa di calore quindi si utilizza lo stesso prodotto sia per il caldo che per il freddo e sono veramente green se poi l'energia come in questi casi arriva direttamente dal sole stiamo parlando veramente di un prodotto che è 100% green e tra l'altro tu Universal Service Provider è uno dei più grandi provider italiani di ricambi per gli elettrodomestici quindi sei tu che ci puoi veramente confermare che le pompe di calore con questi sistemi efficienti richiedono meno ricambi in realtà assolutamente sì noi riceviamo spesso anche tante domande di clienti che non conoscono bene come funziona stanno la classica domanda ma quando ogni quanto tempo devo caricare il gas per esempio le pompe di calore la risposta è molto semplice mai perché il circuito è un circuito chiuso quindi c'è all'inizio quando compi la macchina c'è il prodotto c'è un chilogrammo di gas che poi il circuito chiuso è sempre lo stesso in sostanza quindi a meno che di perdita o di guasti dura praticamente una vita quindi è lo stesso lo stesso gas quindi anche a livello di inquinamento di anidride carbone che è tutto quello che ci sta dietro che non è da sottovalutare e i costi di manutenzione molto basi perché una volta all'anno è consiglia non è obbligatorio ma è consigliabile fare giusto una sanificazione quindi una pulizia dei filtri un controllo dei filtri ma non devi fare altro a differenza delle caldaiche devi controllare i fumi gli scarichi i gas certificazione tutto quello che sta dietro quindi vendiamo infatti spesso delle bombole per bombolette di sanificazione per sanificare appunto la batteria evaporante capita che si rompa qualche telecomando ma sono veramente cose piccole cose veramente piccole tra l'altro le ultime macchine ormai sono quasi tutte inverter un'altra cosa da non confondere la pompa di calore con l'inverter pompa di calore significa che il connessionatore fa sia aria calda sia aria fredda non è detto che la macchina è un inverter la macchina inverter a differenza delle macchine on e off la differenza è che mantengono la temperatura impostata quindi tu imposti 20 gradi la macchina va a una certa potenza finché arriva a quella temperatura dopodiché rimane costante quindi diminuiscono i giri del motore e mantiene quei 20 gradi invece le vecchie macchine on e off avevano un termostolo che accendevano e spegnevano quindi un assorbimento non molto lineare un assorbimento elettrico non molto lineare e in più la temperatura non era costante quindi arrivavano per esempio a 22 gradi staccavano poi ripartivano quando arrivavano a 18 quindi la temperatura non era molto costante invece queste sono le macchine inverter in pompa di calore con un COP molto alto che adesso è più facile lo capisco sappiamo tutti che c'è il discorso della classe energetica classe A classe A più quindi migliore è la classe migliore il COP e sono delle macchine veramente che non se ne può fare a meno secondo me nelle abitazioni a maggior ragione non ce l'è così evoluto esatto dove dobbiamo rinunciare assolutamente al gas alla presa al gas benissimo grazie grazie Francesco invito ovviamente chi c'è ma ci mancherebbe se qualcuno vuole intervenire appunto alzate la manina noi vi tiriamo sul palco Federica sì allora io prima di tutto volevo salutare Christian Christian Previati che è salito sul palco su Clubhouse e ricordare che domani avremo la prima puntata di Voices insieme a Christian insieme a Key Energy in cui parleremo di comunicazione nel mondo della mobilità elettrica quanto è importante fare una buona comunicazione all'interno di un settore che si sta sviluppando tanto quanto la mobilità elettrica in questo periodo in cui però c'è ancora un pochino di misconoscenza dal dal punto di vista diciamo così dell'italiano quindi è un un settore che si sta sviluppando tanto ma che ancora paradossalmente troppo poco conosciuto o forse conosciuto male con ancora un pochino di pregiudizi dei pregiudizi che dobbiamo assolutamente sfatare perché ne abbiamo bisogno è un settore che si deve sviluppare ancora di più per poter raggiungere quegli obiettivi che l'Europa ci chiede al 2030 e che non possono essere raggiunti con delle tecnologie che ancora non abbiamo ma dobbiamo utilizzare delle tecnologie che abbiamo già adesso come ad esempio la mobilità elettrica e far sì che questa tecnologia sia più diffusa e più conosciuta a tutti Christian buongiorno Federica buongiorno Daniele buongiorno a tutti gli ospiti grazie mille per questa ospitalità condivido parola per parola a parte tutto quello che avete detto fino più fino a oggi a partire dalla cultura fino alla pompa di calore perché ho ascoltato tutto ed era tutto molto coerente con i nostri obiettivi e con la nostra filosofia per quanto riguarda la mobilità elettrica che è un tassello per noi di chi è energy fondamentale nella transizione energetica che è un qualcosa che richiederà tante tecnologie che tutte insieme dovranno portarci verso i nostri obiettivi la mobilità elettrica è già qualcosa che noi vogliamo affrontare sul qui e ora non su qualcosa di ipotetico futuro e proprio per questo vogliamo dare informazioni sul qui e ora su magari quelle false informazioni o su quei falsi problemi non c'è la colonnina non c'è lo farò quando ci sarà la struttura lo farò quando sarà possibile tutte cose che in realtà oggi non sono certamente prive di problematiche perché poi ne abbiamo sicuramente ma come ne abbiamo poi in tanti altri settori ma bisogna cominciare a mettere in riga elementi certi già presenti oggi cose che possiamo fare meglio anche in futuro e cominciare ad evolverci anche per esempio ad entrare in nuove concezioni quindi anche l'auto aziendale per esempio anche le auto che sono in dotazione le flotte aziendali sono tutte già elettrificabili ci sono già soluzioni ampiamente perseguibili anche su questo bisogna un po' diffondere la cultura corretta che passa anche attraverso perché no incentivi che esistono vantaggi fiscali insomma ragioni anche molto concrete se volete non solo legate magari all'ambiente ma anche proprio la convenienza perché comunque è un profilo business che già oggi rendono auspicabile anzi conveniente convertirsi verso un modello che elettrifica l'impresa l'azienda gestisce la flotta e riesce a utilizzare meglio l'energia grazie Cristian è assolutamente importante assolutamente importante un po' come la diffusione delle stazioni di ricarica e del concetto che la stazione di ricarica è imprescindibile ormai per strutture turistiche e via dicendo Fede noi diciamo spesso che la stazione di ricarica è un po' è come il wifi esatto fondamentale ormai come il wifi irrinunciabile sì Federico su questo fronte effettivamente la diffusione della stazione di ricarica ha ancora qualche freno c'è ancora qualcuno che deve capire come fare come non fare ma ad esempio il settore turistico lo ha capito sì esattamente noi assolutamente crediamo che specialmente oggi la stazione di ricarica sia un valore aggiunto per questo settore per sia per le comunità o i luoghi che vogliono diciamo attrarre le persone il turismo sia per le piccole realtà gli ecoturismi e queste cose questa tipologia invece di persone abbiamo notato che effettivamente diciamo c'è già molta conoscenza nel rispetto della ricarica per l'automotive siamo anche contenti di in realtà vedere che il primo progetto effettivo facciamo di questo tipo con Morterone è proprio un progetto di questo tipo coinvolgere il turismo in un'idea di sostenibilità e portare dentro anche il mondo automotive che comunque in tutto questo è ancora un pochino indietro diciamo che si sta evolvendo in maniera particolare negli ultimi tempi forse grazie anche alla pandemia perché i governi di tutta Europa perlomeno stanno spingendo con incentivi però chiaramente si tratta di prodotti complessi e costosi quindi ci vuole un po' di tempo in più rispetto magari alle biciclette elettriche alla diffusione di altri è vero che è stata massiva e sicuramente importante quella poi dà un traino anche alle auto in realtà chi guida la bici elettrica poi è già pronto per l'auto elettrica prima avevamo detto la colonnina di ricarica un po' concepita come il wifi la sindaca ci ha proprio detto che a Morterone abbiamo installato tra l'altro ormai 4-5 anni fa del wifi pubblico nella piazza principale e sulle visciale ci sarà dell'altro wifi che tra l'altro sarà utile per chi visita le opere del Mac a Morterone che sono lì intorno allo chalet perché queste opere hanno un tag NFC che ti permette quindi hanno un cartellino che indica una targa metallica che ti indica qual è l'opera chi è l'artista e l'anno e poi c'è un tag NFC che ti permette di esplorare l'opera siccome su Morterone prende team diciamo e non ci sono altri operatori la rete è un po' così ovviamente un comune di montagna ci sarà del wifi che è quello di Eolo un'altra eccellenza italiana che è nata da un'esigenza da una passeggiata del suo amministratore che aveva bisogno della connessione e ha detto va bene adesso facciamo più contratti che di wifi possibili ovviamente in tecnologia che possa raggiungere piccoli comuni immaginati Federico che effettivamente su Morterone ci sono mi sembra più di 40 contratti che sono più degli abitanti che sono 29 ovviamente ci sono i villeggianti e la connessione sarà importante per noi per raccogliere i dati importante per il Maca Morterone per avere la connessione in quella zona e quindi esplorare le opere anche per chi non ha rete per chi non ha l'operatore mobile quindi sotto quel punto di vista effettivamente anche la connettività è effettivamente molto ma molto importante quindi su quel tema siamo accesi ecco la connessione non servirà solo per raccogliere dati ma anche per fornire dei servizi allora Fede se c'è qualcuno su telegram che vuole intervenire tranquillamente vi diamo la parola facciamo un piccolo riassunto per chi fosse unito adesso ad esempio sulla Clubhouse stiamo parlando di una delle sperimentazioni più interessanti che sta portando avanti i Vinao in questo momento quindi una piccola struttura completamente autonoma alimentata dal fotovoltaico emessa nel comune più piccolo d'Italia quindi una bella sperimentazione che sicuramente anche con in altri luoghi può essere veramente inserita in altri luoghi in altre situazioni addirittura in situazioni di laghi e di mari questa è una una cosa fattibile Michele esatto esatto Michele raccontaci un po' no perdonati ora entro sempre devi questa visione più sull'acqua però c'è tutta un'area l'area del delta del Po la zona di Grado Venezia appunto come dicevamo Caorle la Brussa c'è tutta un'area bellissima dell'Italia dove c'è un turismo di biciclette ciclismo quindi mobilità veicoli leggeri mobilità leggera e questo tipo di progetto con un chalet ma un'idea di avere un sistema quindi staccato diventa molto 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 interessante per fornire dei servizi dove non è possibile arrivare quindi potrebbe essere fatta questa sperimentazione quindi fatto un caso concreto come state testando voi l'idea è di riproporlo con caratteristiche adeguate rispetto al territorio dove si va a installare secondo me è molto interessante e anche per il turistico per i viaggi poi ci può essere anche la localizzazione per le auto elettriche per le biciclette per le barche elettriche insomma mi piace molto bene perché l'integrazione nel territorio è fondamentale io ho un piccolo contributo di Antonella sindaco di Morterone che ci parla proprio del territorio di Morterone vi invito ovviamente se avete delle domande volete approfondire anche delle domande tecniche perché abbiamo la fortuna di avere qui i partner con cui abbiamo realizzato il levisciale completamente autonomo a Morterone per il quale vi inviteremo all'inaugurazione ma sentiamo un po' cos'è e com'è il territorio a Morterone abbiamo potuto realizzare levisciale grazie ai contributi di Regione Lombardia e del BIM il nostro intento era quello proprio di realizzare un punto informativo turistico un punto che accogliesse tutte quelle persone che salgono a Morterone e vogliono vivere delle giornate intense immersi nella natura possono fare delle passeggiate conoscendo l'arte contemporanea seguendo sentieri visitando la nostra chiesa visitando i piccoli nuclei che caratterizzano il nostro comune possono fare le passeggiate sui sentieri che portano al Resegone che portano alla costa del Palio conoscere l'ormai famoso sentiero dei grandi alberi che permette di conoscere delle essenze ormai centenarie e possono conoscere anche l'agriturismo costa del Palio dove si possono assaggiare in particolare d'estate i prodotti caseari che ricordano l'antica tradizione di Morterone che è quella della produzione di formaggi vaccini in particolare ricordiamo gli stracchini cioè quei formaggi ottenuti utilizzando il latte fresco muto dalle vacche il nostro territorio è un territorio che invita proprio ad essere vissuto ad essere frequentato in tutte le stagioni dell'anno nella bella stagione passeggiate per tutte le famiglie alla portata proprio di tutti l'inverno belle escursioni sulla neve con le ciaspole oppure con gli sci d'alpinismo la salita e la discesa del resegone sono una meta ambita da tutti gli sci alpinisti c'è alpinismo che su Morterone funziona bene Fede ottimo sì no poi quando io sento sci lo sai che vado proprio in brodo di giugiole perché è sempre stato il mio sport quindi la neve mi fa un effetto molto potente no io stavo pensando che una delle cose veramente belle a mio avviso di Morterone è proprio questa capacità che c'è stata di creare rete non soltanto tra eccellenze le eccellenze tecnologiche l'innovazione che hanno dato vita effettivamente alla struttura quindi e proprio allo chalet in maniera tecnica ma anche proprio con tutto quanto il territorio intorno e appunto la sindaca con il suo messaggio ce lo ha assolutamente confermato è veramente nato in un ambiente in cui si è creata una sintonia tra tutto quello che è la tradizione la cultura l'arte che ci sono a Morterone e l'innovazione e la tecnologia che si sono rese disponibili grazie a Devisciale e proprio questa storia questa idea di rete viene anche ribadita dalla tecnologia che viene utilizzata Alessandro prima si parlava appunto di Tor del sistema che Smartbit ha installato all'interno di Evicciale ci spieghi un attimino meglio in che modo Tor riesce a fare rete anche con dei veicoli leggeri e non che non sono soltanto le biciclette ma quindi le e-bike ma anche ricollegandoci al discorso che faceva prima Michele si potrebbe utilizzare sulle barche assolutamente sì l'idea della piattaforma è stata proprio quella di integrare la rete di colonnine di ricarica queste colonnine di ricarica possono essere delle bici delle auto o addirittura anche delle auto delle varche proprio perché la tecnologia è la stessa o comunque sia si può adattare la stessa tecnologia ai vari sistemi di ricarica la piattaforma di Tori in realtà non è altro che uno strumento gestionale per colloquiare con le varie colonnine che sono distribuite sul territorio quindi dà la possibilità al gestore di avere sempre sotto controllo quello che è la sua rete quindi dare la possibilità agli utenti di pagare dare la possibilità al manutentore di intervenire in tempo reale su quelle che possono essere le problematiche delle strutture di ricarica e dare la possibilità di avere un monitoraggio di quello che è l'utilizzo di quelle stazioni di ricarica per esempio ci sono degli altri strumenti importanti che abbiamo inserito all'interno della piattaforma di Tor per i gestori per poter monitorare quello che è lo sfruttamento di queste stazioni di ricarica e quindi poter fare eventualmente investimenti di integrazione o riduzione di quella che è l'infrastruttura che hanno creato e questo tra l'altro è uno strumento importantissimo proprio in questo periodo dove in realtà è un mercato una rete che è in via di sviluppo nessuno sa che cosa succederà quindi tutti si stanno inventando un po' qualcosa per cercare di trovare il prodotto ottimale però poi alla fine prima di poter dare la sentenza ho trovato la soluzione giusta e saranno i numeri che daranno effettivamente il risultato se ho effettivamente trovato la soluzione giusta e Tor appunto è quello strumento quell'anello di congiunzione che permette al gestore di tarare la sua infrastruttura l'atto utente invece è comodo perché sappiamo che per andare a caricare i vari veicoli abbiamo le nostre app eccetera eccetera ne abbiamo già fin troppe e se noi dovessimo avere un'app per caricare la barca un'app per caricare la bici un'app per caricare l'auto basta veramente sarebbe una cosa improponibile ora in questo caso sempre riunisce queste tecnologie quindi l'utente ha a disposizione questa web app con la mappa la posizione delle colonnine dove può avere in tempo reale la situazione di cosa offre il territorio quindi se ad esempio siamo in montagna può avere un'idea di come programmare il percorso magari con la bicicletta per arrivare nel punto panoramico nel punto di ristoro eccetera eccetera dove può mangiarsi magari un panino e caricare in tranquillità la sua bicicletta questi sono tutti gli aspetti importanti che offre la piattaforma Tor abbinata a queste tecnologie quindi il bello è che quando noi cinque anni fa siamo partiti da questo foglio bianco e abbiamo iniziato tra giù delle idee abbiamo proprio messo in evidenza questi punti e li abbiamo inseriti nella piattaforma e adesso è tutto disponibile per i clienti per coloro che vogliono utilizzare questa piattaforma e hanno a disposizione numerosi strumenti tra l'altro una piattaforma in continua evoluzione quindi stiamo implementando costantemente e continuamente delle nuove funzionalità proprio per ampliare sempre di più quello che è la richiesta degli utenti e dei gestori bene vedrai che nel nostro network ci sarà sicuramente capacità di creare nuove connessioni e portare avanti un progetto importante l'elettrificazione in Italia sta andando alla grande lo ricordiamo in questa room abbiamo proprio chiacchierato di Evishale ma in realtà poi siamo andati a prendere dei punti interessanti di questo enorme cambiamento che l'elettrificazione sta portando vedo tra i nostri ospiti abbiamo l'azienda agricola Mirabile che saluto Eman abbiamo Giorgio il grandissimo Giorgio Nico Zane Simone che si occupa di elettronica Anna ecco noi abbiamo parlato di elettronica abbiamo parlato di energia abbiamo parlato di sostenibilità e sistemi completamente autonomi e questo lo inaugureremo tra maggio e giugno quindi tenetevi aggiornati perché il Evishale sarà l'eccellenza che andremo a inaugurare stiamo andando verso la chiusura siamo aperti da tanto e grazie veramente a tutti gli ospiti che hanno dato dei contributi interessanti Andrei su una richiesta che ha il sindaco una cosa legata ad altri sindaci che è molto interessante un po' un appello agli altri sindaci di mandato ho avuto occasione di conoscere parecchi sindaci italiani provenienti dal continente e dalle isole ed è sempre stato uno scambio interessante a me piacerebbe come ho allacciato dei bellissimi rapporti con sindaci ultimamente anche del centro Italia mi piacerebbe che ci fosse sempre uno scambio tra noi amministratori e partirei proprio da Morterone dal comune più piccolo mi piacerebbe proprio invitare i sindaci dei vari comuni italiani lasciatemelo dire io preferirei all'inizio proprio i sindaci dei piccoli comuni italiani perché li sento proprio un po' gemelli a Morterone al sindaco di Morterone mi piacerebbe proprio invitarli a Morterone per far conoscere la nostra realizzazione questo desiderio di avere una particolarità di essere conosciuti non solo perché siamo il comune con il più piccolo numero di abitanti e non è la cosa che hanno interesse di più ma un piccolo comune che ha avuto il coraggio di affrontare e di realizzare di costruire un'opera che è sicuramente la prima in Italia innovativa tecnologica a risparmio totale e quindi a salvaguardare l'ambiente ecco questo è un po' un appello tra i piccoli comuni che sono degli sperimentatori eccezionali io spero che con questa realizzazione con la rete che noi abbiamo già creato si possano creare delle altre sperimentazioni e che l'Italia possa essere ancora grazie al fatto che noi abbiamo insistentemente nei nostri progetti aziende italiane l'Italia possa ancora dire la sua alla grande a livello europeo io sono sicuro che si possa fare perché ho incontrato conosco e lavoro da 15 anni con le aziende italiane nell'elettrificazione e vedo che abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare se siete d'accordo andrei verso la chiusura siamo aperti veramente da tanto Federica se c'è qualcuno su Telegram che vuole intervenire direi di no 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 io ci sono stavo aspettando magari se qualcuno voleva prendere parola andiamo verso la chiusura andiamo in chiusura esatto allora io saluto Alessandro Alessandro Torelli saluto Michele Solari Federico saluto Per Paolo Federico ecco certo devo solo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al progetto e insomma da una persona che ha vissuto sette anni all'estero volevo davvero fare i complimenti per il livello di innovazione che ogni azienda qui in Italia piccole e grandi realtà stanno davvero portando in questo mondo che è nato da poco ed è in espansione incredibile quindi noi ci stiamo noi ci stiamo mettendo al massimo anche come dei technologi ma davvero ho apprezzato tanto il lavoro che ho visto anche a Morderone è vero e devo dire che noi abbiamo apprezzato l'entusiasmo con il quale tu hai abbracciato un pochettino probabilmente anche questa tua esperienza all'estero l'hai portata qua perché hai visto nell'ingegneria nel genio italiano un quel barlume importante che tra l'altro in Days è rappresentata da due ragazzi giovanissimi due ingegneri giovanissimi che hanno portato avanti un progetto in un settore in fortissima crescita che è quella della mobilità elettrica che ovviamente abbraccia l'energia rinnovabile quindi anche per noi è un piacere collaborare con Days collaborare con te col tuo entusiasmo anche con il tuo amore per lo sport e per la montagna che sicuramente farà la differenza quindi vedo l'ora veramente dell'inaugurazione così ci facciamo anche un mega giro in bici sarà molto interessante ci sono dei sentieri molto interessanti da vedere su Morterone grazie Federico veramente grazie Cristian grazie al Maca Morterone per averci presentato la casa dell'arte e il museo di arte contemporanea all'aperto di Morterone che vi invito veramente a visitare è spettacolare ci sono delle belle giornate in questo periodo quando potete prendete neanche un'ora e mezza da Milano quindi molto vicino andate a visitare Morterone e preparatevi perché ci sarà la nostra inaugurazione sarà veramente veramente interessante bene io ringrazio tutti ringrazio Giorgio tutti quelli che ci sono in room grazie Cristian grazie Daniele ci vediamo domani mattina ci vediamo domani l'appuntamento è domani mi raccomando 9 e mezza partiamo con le voices ok grandissimi grazie a tutti ciao a tutti buona giornata buona giornata ciao a tutti tanti ospiti domani seguiteci ciao ciao a tutti benvenuti nella room di viaggio italiano